Ma porca! Ma porca no! Si può essere! Queste le immagini, la disperazione di chi inerme si è trovato ad assistere al tragico momento dell'affondamento del Diana Madre. Come si evince dalle immagini amatoriali fornite dal personale della Gold Event Yacht di Giulianova, una terribile onda ha ribaltato il peschereccio. La tragedia, avvenuta lunedì sera, proprio all'ingresso del porto di Giulianova, ha portato alla scomparsa del 39enne Maurizio Fagone. Gli altri componenti dell'equipaggio, i due fratelli Marco e Stefano Marcheggiani, sono scampati alla tragedia grazie ai soccorsi dei marinai giuliesi presenti che si sono prontamente attivati nel trarre fuori dalle acque i due fratelli in balia delle onde. Le operazioni di ricerca condotte ad oggi anche attraverso un elicottero della Polizia di Stato e l'uso di sommozzatori non hanno purtroppo ancora portato a ritrovamento di Maurizio Fagone. Tra angoscia e disperazione, i familiari e i parenti del disperso ormai giorno dopo giorno non possono che sperare che il mare restituisca loro il corpo di Maurizio.